ciao benvenuto a questo video allora parliamo della testimonianza di phil steinberg costole fratturate e perforazione del polmone il 13 di giugno stavo lavorando sul tetto del nostro garage per sostituire alcune lamiere che erano marcite dopo aver tolto queste lamiere stavo camminando lungo l'impalcatura per preparare la nuova lamiera una plancia mi è scivolata da sotto i piedi e sono caduto giù mi sono rotto sei costole e mi sono forato un polmone non ho mai avuto così tanto dolore in vita mia il medico ha calcolato che mi ci sarebbero volute circa sei settimane prima di poter pensare a ritornare a lavorare beh eccovi i risultati in queste foto di tre settimane con i cerotti e vi dico anche che sono riuscito a tornare a lavorare in tre settimane e mi sento a circa 90 per cento del mio stato normale questo prodotto è veramente notevole bella testimonianza grazie mille al signor steinberg grazie a voi dell'ascolto e della visione alla prossima grazie mille al signor steinberg grazie a voi Grazie.